Il rischio mercato è sostanzialmente il free risk, cioè il tasso che remunera il non rischio e quindi tipicamente i titoli di Stato a breve termine più un premio normale per il rischio. Che cos'è il premio per il rischio? Allora io mettiamo che io ho in un mondo ipotetico che non è più quello di oggi, i miei bot che rendono un 1% i buoni ordinarie del tesoro dello Stato, quindi sono dei buoni che non possono fallire, perché la lira l'abbiamo spiegato prima e lo ripetiamo, perché in un mondo così ipotetico la banca centrale è posseduta dal tesoro, e dallo Stato che stampa i biglietti, le banconotte, quindi se lo Stato emette un'obbligazione, quindi emette un pezzo di carta, lo Stato vi dà questo pezzo di carta con scritto obbligazione che prevede due cose, il pagamento di una cedola e a scadenza il rimborso, quindi voi date delle banconote, della banca centrale allo Stato, lo Stato vi dà questo pezzo di carta e vi promette che vi pagherà la cedola ogni sei mesi, ogni anno e a scadenza vi rimborserà l'ammontare del prestito. Ovviamente è come andare in una fontana e preoccuparsi dell'acqua, perché? Perché è lo Stato stesso che stampa i biglietti, quindi se lo Stato stesso stampa i biglietti, voi avete la garanzia che a scadenza vi restituirà dei biglietti, perché attacca la stampante e li stampa e ve li dà. Qual è la remunerazione per prestare soldi allo Stato? Questo è il risk free, che tipicamente sono tassi molto bassi, ma ho visto che oscillano tra l'1 e il 2%, quindi il rendimento del mercato è dato dal free risk più quella giunta rispetto a questo 1% che induce l'investitore ad assumersi il rischio. Qual è il rischio? Il rischio ovviamente è di fare il botto, cioè che i suoi soldi non gli vengano restituiti, o che gli vengano restituiti ma non gli vengano remunerati, perché sono due le cose che voi dovete avere. Dovete avere i vostri soldi indietro alla fine del prestito e una remunerazione anno per anno. Quindi io vi ho annoiato con il calcolo del risk free e del premio per il rischio, proprio perché è importante avere questi due elementi per andare a calcolare quello che è il rischio di mercato. Il premio per il rischio è questa componente, è un po' come la raba fenicia, che tutti ne parlano ma nessuno l'ha vista, perché il premio per il rischio varia a seconda del periodo storico. È evidente che se io vado a comprare delle azioni di un'industria bellica durante un conflitto bellico, chiederò meno rischio rispetto a comprare dei cannoni quando è scoppiata la pace. Se io vado, il premio per il rischio varia a seconda del periodo storico, ad esempio se c'è stata una recessione o se c'è stata un'espansione, se siamo in una fase di espansione economica, quindi varia nel periodo storico, varia a seconda dello stato dell'economia, a seconda della latitudine geografica. Voi pensate che per esempio in un paese emergente non esiste la tutela dell'ordinamento, perché? Perché i tribunali non funzionano, perché la giustizia è corrotta, la polizia è corrotta, quindi tipicamente se io vado a investire in un paese emergente, richiederò un rendimento superiore rispetto a investire in un paese dove funziona la giustizia. Perché? Perché se qualcuno mi fa uno sgarro dopo aver investito nel Regno Unito, io mi rivolgo a un tribunale che dopo sei mesi mette una sentenza e tutela i miei diritti. Se io vado a investire nella Repubblica dei Bongo Bongo, c'è una palma, sotto la palma c'è il capovillaggio che ci mette due anni a sentenziare e poi fa quello che gli pare a lui e decide che io sono cattivo e non sono meritevole di tutela. Quindi io per investire nella Repubblica delle Banane devo avere un rendimento ben superiore a quello di investire nel Regno Unito. Molte volte anche il rischio varia a seconda dello stato sociale di chi prende il rischio. Perché? Perché ovviamente se voi avete 10 milioni di euro depositati in banca e dovete fare una società in cui rischiate 10 mila euro, non ci state a pensare due minuti. Se in banca avete solo 10 mila euro e vi chiedono di partecipare con quei 10 mila euro a una società, è evidente che per voi quei soldi devono rendere, perché avete solo quelli e ci penserete tre volte prima di farlo. Il premio per rischio varia anche a seconda dell'età. Se io ho 25 anni sono disponibile a correre dei rischi che non sarei altrimenti disposto a correre quando ne ho 52. Perché se a 52 anni sto bene, chi me lo fa fare è andarmi a prendere dei rischi. Se ne ho 25 o la va o la spacca e quindi sono più disponibile a costruirmi un futuro. Varia anche a seconda del sesso, ovviamente questo è un argomento delicato, ovviamente noi siamo per le pari opportunità e quindi non ci pronunciamo, però magari le donne possono avere più o meno la disponibilità di assumere più o meno rischio rispetto agli uomini. ci sono alcuni che ne sono convinti, poi alla fine il mondo sta andando in una direzione in cui i fatti ci testimoniano che non è assolutamente vero, nel senso che ci sono degli imperi che nascono dall'intuizione geniale di alcune donne. Quindi magari sono stati condizionamenti che ci hanno o hanno portato alcuni a credere questo, ma tra 50 anni sarà scontato dire forse che tutti abbiamo la stessa professione di rischio indipendentemente dal sesso. Quindi io mi ricordo quando ho iniziato il mio mestiere 30 anni fa, era veramente rara Avis vedere una donna che si occupasse professionalmente dei risparmi, degli investimenti di famiglia. ricordo una ragazza che nel 2000 vinse una competizione che noi organizzavamo di borsa e tutta la stampa italiana, correndo la sera, solo 24 ore, la stampa, la Repubblica, intervistavano questa signora come se fosse un evento, che la finanza si fosse tinta di rosa. Oggi se vado a vedere le liste dei miei abbonati al mio giornale, ovviamente il circa il 30% di chi legge il mio giornale è di sesso femminile. Quindi diciamo che 30 anni fa era un evento, oggi incontrare nel mondo della finanza delle donne che fanno le consulenti, piuttosto che i gestori, piuttosto che fare investitori in proprio, è una normalità e nessuno ci fa più caso. Quindi nell'arco di 30 anni possiamo dire che il mondo si sia andato nella direzione giusta, si sia equilibrato. Oggi magari ci poniamo il problema e tra 30 anni chi farà questa lezione cancellerà quest'ultima frase e dirà che non ci perserà nemmeno. Almeno ci auguriamo che sia così. Questo è un altro rischio di mercato, il premio per il rischio dal 1999 al 2000, quindi no, credo che sia dal 1990 al 2000. Ovviamente dipende da come lo calcoliamo, sia dal periodo storico sia da qual è ovviamente il risk free che andiamo a sottrarre, e vediamo che l'Italia ha un premio per il rischio da questa statistica superiore a quella di tutti gli altri paesi. Sicuramente le risposte possono essere molteplici e sicuramente possiamo dire che il nostro paese non brilla tra gli altri paesi del mondo come evoluzione finanziaria. Diciamo che siamo un po' indietro. Adesso gli ultimi anni devo dire che dal 2000 ad oggi le cose sono molto cambiate, la statistica vecchia presa dal Brilay, il grado di finanziarizzazione del sistema è molto avanzato, anche diciamo che negli ultimi anni assistiamo a sempre un maggiore interesse del grande pubblico nei confronti delle tematiche finanziarie. Ci sono stati gli studi che vengono citati in tutti i libri di finanza aziendale, lo studio più famoso, quello Panetta e Violi, che va dalla formazione Regno d'Italia nel 1984 e vede un tasso di rendimento medio annuo relativo all'Italia, il tasso di mercato, il rendimento del mercato è alle 6,72. Anche siciliano, un altro costo, un altro studio molto importante, sempre su 100 anni del 3,9. Francamente io li riporto per completezza, ma diciamo che stiamo parlando delle guerre puniche, così come è cambiato il mondo anche solo dal 98 ad oggi, fanno sì che questi studi che pur vengono citati in tutti i manuali di finanza, lasciano un po' il tempo che trovano. Io di solito consiglio di tenere lo spartiacque della doppia cifra, quindi di ragionare che i paesi a capitalismo avanzato, bar evoluto, chiamateli come vi pare, di calcolare un 10, su tutti gli altri calcolare un 5, siamo su 4, 5, 6, siamo l'Italia, siamo a cavallo di queste cifre. Questo è il tasso di rendimento del 1.126 al 2.000, sempre dell'indice SP500, voi vedete che possiamo dire sicuramente che l'indice azionario sono più gli anni che sono in guadagno degli anni che sono in perdita, paesi che vai a rendimento che trovi, anche qui vedete sempre che quando noi calcoliamo questi rendimenti, per esempio questa è presa dal Financial Times, è raro che vi vengano indicati se questi rendimenti sono media geometrica o media aritmetica, quindi già il fare la domanda al vostro private banker o a un giorno se andrete a discutere dei tassi di rendimento, se sono calcolati media aritmetica o media geometrica già mette l'imbarazzo alla controparte perché per andare ad analizzare media aritmetica o media geometrica devi aver fatto un corso di finanza, non devi essere ovviamente un genio, però se calcolate la media geometrica vi viene il 3, se calcolate la media geometrica vi viene il 3 per quanto riguarda l'Italia, se calcolate la media aritmetica vi viene il 6, allora voi capite che dal 3 al 6 è come dal giorno alla notte, quindi ovviamente qui l'ho riportata perché vengono riportate 3 asset class dal 900 al 2000 e sono dei rendimenti reali, quindi al netto dell'inflazione, se voi notate l'Italia, la cosa insomma è abbastanza fastidiosa perché voi notate che chi ha detenuto bond secondo questa statistica dal 1900 al 2000 ha perso il 2.2% all'anno, quindi diciamo tenere bond in Italia con i problemi dell'inflazione che si è manifestata in tre frasi cicliche che sono dopo la guerra mondiale, dopo la seconda e durante la crisi petrolifera degli anni 70 ha comportato delle perdite, non solo per chi ha tenuto i bond ma anche per chi ha tenuto il cash.